Completamente immerso nel centro storico di Genova, a pochi metri dai principali luoghi di interesse della città, sorge il Palazzo Patrimonio dell'Umanità e dell'UNESCO, Cosma Centurione Pallavicini, sito in Via Lomellini al numero 8. Si tratta di un'antica residenza nobiliare che nei secoli ha ospitato famiglie blasonate e personaggi illustri da tutto il mondo. Gli interni in stile barocco del XVII secolo rappresentano un'occasione unica per chi desidera stupire i propri clienti e lavorare in ambienti suggestivi e ricchi di storia, che, fra cultura e fascino, riusciranno ad incantare anche chi vanta gusti tra i più raffinati e sofisticati. Una stretta di mano, la firma di un contratto o il semplice lavorare in una location di tale prestigio acquisteranno solennità, così da rendere la quotidianità una passeggiata nella grande bellezza.